Ha prevalso la voglia di non perdere da una parte all'altra, soprattutto per l'Atrizio. Noi abbiamo cercato comunque di far gioco, ma pur avendo, non so, che supremazia territoriale per tutta la partita, non siamo riusciti a sfondare dove loro difendevano in cinque, più calvi, più arrigoni, corti, sono tutti mediani. E onestamente abbiamo faticato molto a creare qualche opportunità per poterli impensierire. Non era una partita facile da interpretare perché comunque avevamo bisogno di non perdere soprattutto per raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Abbiamo cercato più volte di forzare la situazione su una fascia o sull'altra, non siamo mai riusciti a sfondare. Siamo stati abbastanza inconcludenti davanti, cosa che dobbiamo sicuramente cercare di migliorare per i play-off perché con Lecce abbiamo creato poco, a Portogruaro niente, oggi poco niente. Quindi dobbiamo cercare di migliorare un po' questa carenza che in questo momento qua stiamo mettendo in evidenza. Sapevamo che pareggiando o vincendo avremmo dovuto giocare contro di loro e sappiamo che è una squadra attrezzatissima però ci presentiamo con il fatto che in campionato li abbiamo battuti due volte e quindi siamo fiduciosi di poter far bene. Il traguardo storico è importantissimo, per noi credo che sia una grandissima soddisfazione. C'è una lettura tattica chiara da dare alla partita, noi non dovevamo subire gol assolutamente. Fino all'ottantesimo vince o pareggiare per noi non cambiava nulla, poi il Como ha ribaltato il risultato e in effetti vincendo potevi arrivare terzo, però a quel punto lì cercare di sfondare il bunker della Tritium in quel momento là per noi era pericoloso perché dovevamo sbilanciarci troppo, dovevamo rischiare di prendere gol in contropiede e quindi buttare via la stagione. La partita di oggi credo che abbia questa lettura tattica qui, noi siamo contenti, siamo soddisfatti, siamo convinti di poter far bene anche i playoff, ci arriviamo con la testa e con le gambe giuste e credo che oggi sia veramente una giornata storica per l'Alto Adige. Noi in fondo siamo arrivati comunque facendo bene, abbiamo avuto un trend non positivissimo sui risultati però io credo che abbiamo anche perso partite meritatamente, parlo di Lecce, parlo di Portogluaro quindi in fondo credo che un quarto posto sia veramente tanta roba.